Buongiorno da Auto Centro Sud, Lancia Delta 836 al raduno di Santa Pollinare, provincia di Frosinone. Buongiorno Tonino, hai visto che macchina hai portato l'amico tuo? A me tantissimo, buongiorno a Giannino, al Capodreno. Buongiorno Aldo, buongiorno carissimo. Buongiorno, buongiorno. buongiorno 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 bella questa è una grande macchina buongiorno 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 Grazie. 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 Allora è numero uno questa macchina. 1 GT è roba sete. Sì. Sì. Quando non cammina più. Un abbandonato. Ora non cammina più. Ma sennò adesso mi la ristruttò. Rimani qua e non ti muovi Non ti muovi Non ti muovi Non ti muovi